La provincia di Salerno, con propria ordinanza, ha predisposto la chiusura del tratto di strada tra Pisciotta e Caprioli, in località Gabbella, all'altezza del Lido Anireip, e ha avviato il cantiere per i lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di disservizi e movimenti franosi sulla SR-XSS 447 tra Pisciotta e Palinuro. La chiusura della strada, dichiara il presidente Michele Strianese, si protrarrà fino all'ultimazione dei lavori e al ripristino delle condizioni di sicurezza per il transito veicolare. Lavoriamo per eliminare un dissesto franoso rilevante verificatosi da tempo. Utilizziamo fondi regionali POR, FESR, che il presidente De Luca ha messo a disposizione della provincia di Salerno e in particolare per questo territorio. Ci scusiamo dunque per i disagi a cui saranno costretti cittadini e imprenditori, ma questo è il periodo più indicato per realizzare le opere che contiamo di terminare al più presto possibile.